Strutture fatiscenti, bagni condivisi tra l'unni delle elementari e delle medie, circa 150 complessivamente, termosifoni spesso spenti, perdite d'acqua e fino a qualche tempo fa nemmeno un telefono fisso dove poter chiamare. Per non parlare del flusso e deflusso della scuola stretta tra una strada privata, via Montegabbia, e la trafficatissima via del circuito, con bambini costretti ad aspettare l'ingresso in mezzo alla strada, con un solo nonno vigile a controllare la situazione. Peraltro, notizia di questa mattina, perfino aggredito e insultato per aver impedito ad un'auto di sostare sulla carreggiata. Non c'è nulla di più definitivo del provvisorio, recita un noto aforismo, a che si calza molto bene nell'incredibile vicenda del plesso di Villa Fabio dell'Istituto Comprensivo 10 di Pescara, una sistemazione appunto che doveva essere temporanea, ma che a distanza di quattro anni non sembra poter cambiare. Eppure, al di là degli eterni lavori alla scuola Michetti, ci sarebbe il plesso di via Montessiella del San Giovanni Bosco, chiuso pare per mancanza di misure antisismiche, ma che, a detta delle mamme, sarebbe stato senza problemi riaperto per l'utilizzo della palestra. Sono quattro anni che stiamo vivendo una situazione, abbiamo una scuola fattiscente, come dicevamo anche ieri, nel cartelli, che poi purtroppo sono stati anche tolti le nostre richieste, e quindi siamo qui proprio per richiedere il diritto allo studio per questi ragazzi, di riavere la nostra scuola, cosa che ci dicono che appunto l'Amichetti, che doveva essere già appunto a quest'ora fatta, però noi ci battiamo anche e soprattutto per San Giovanni Bosco, che è una scuola di quartiere, che era la nostra scuola di quartiere dove abbiamo fatto le iscrizioni, che è una scuola chiusa, abbandonata a se stessa. Dal Comune non abbiamo avuto nessuna risposta, proprio per questo stiamo organizzando un'altra manifestazione, perché quella di ieri noi vogliamo che si chiama proprio sciopero, perché noi abbiamo scioperato in quanto non abbiamo fatto entrare i nostri alunni, mentre quella che andremo a fare il 6 marzo davanti al Comune e alla Prefettura, sarà proprio una vera manifestazione, dove andremo proprio a rapportarci con il Sindaco, se ci vuole ascoltare, e chiedere delle risposte direttamente a lui. C'è poi il tema dell'inclusione sociale, sia per diversi alunni disabili, ma anche per la maggior parte di alunni figli di stranieri, che avrebbero bisogno di docenti specificatamente formati, ed invece sono costretti a seguire per ora lezioni assolutamente incomprensibili. Mancano degli insegnanti a sostegno di questi ragazzini stranieri? Mancano, mancano, perché è poco il docente che insegnano i bimbi. Prima c'erano tanti bimbi, perché quando la mamma vede la situazione, se non c'è il docente, è portato i figli a tre scuole. Se continua così, la scuola si chiude, e il docente si perderà il lavoro, si perderà tutto. E come si fa?